Vengo sempre qui a San Vito per il Cuscus Fest perché è un evento che è cresciuto negli anni sempre di più, mette in luce gli elementi preziosi del territorio, che si sposano con la cucina, con l'incontro tra le culture e i paesi e quindi ne viene fuori veramente una manifestazione degna di attenzione.